Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della vendetta degli obesi. Prima di parlare di questo tema, però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, cos'è la vendetta degli obesi? E' il fatto che un pugile obeso, perché di fatto Ruiz è obeso, ha battuto un pugile statuario invincibile, sembrava, bello, proprio l'emblema della bellezza. Anthony Joshua, pugile inglese, di origini ganese, alto due metri, fisico statuario, colore ebano. L'emblema, proprio un viso bello, un fisico stupendo, muscoli definiti, scolpiti, ha vinto tutto, ha vinto tutti gli incontri per K.O. E arriva questo cicciono obeso di Ruiz che lo batte, lo butta al tappeto, senti Marie Prela, lo butta giù quattro volte, K.O. tecnico. E che cosa dimostra questo? Beh, intanto, a prescindere dal fatto che è un evento mediatico, che probabilmente tornerà utile ad entrambi, eh, comunque, perché anche Anthony Joshua, diciamo, ha contribuito, diciamo, attraverso la sua sconfitta a richiamare l'occhio del mondo sulla box, perché se lui avesse vinto con Ruiz, nessuno avrebbe, come dire, speso una parola su questo incontro, perché era il pugile atletico, bello, alto, anzi, tutti gli dicevano prima che era un incontro dove per lui era un disonore, cioè andare a combattere con uno palesemente inferiore, sovrappeso, Ruiz, a parte che comunque, come pugile, non è che avesse un cattivo background, era il quattordicesimo nel ranking mondiale, le sue vittorie comunque le aveva fatte, aveva subito solo una sconfitta, ha convertito non un anime, tra l'altro, però come sia possibile che questo, questa bolla di grasso, diciamo così, che è riuscita di un'ottante qualcosa, con 122 kg di peso, ma è riuscito a dimagrire, perché se no non rischiava, rischiava di non restare nel peso, che non so quanto sia nei pesi massimi, poi ci sarebbero i supermassimi dopo, però, mentre Joshua è alto 2 metri, 2 metri e 2 per 113 kg, con un allungo decisamente superiore, poi Joshua è 13 kg di muscoli distribuiti su 2 metri, mentre invece 2 metri e 2, mentre invece, come si chiama Ruiz, è 1 metro 85, qualcosa del genere, per 122-23 kg, ma come dire, di pancia praticamente, perché basta vedere le immagini, è quasi goffo, diciamo, eppure ha vinto, e quindi diciamo che questo dimostra che talvolta nello sport anche dei fisici improbabili possono dire da loro, e quindi da questo punto di vista anche gli obesi possono, anche se, come dire, probabilmente se Ruiz riuscisse a rientrare in un peso giusto, fare un allenamento, potrebbe diventare veramente ancora più forte, se in quelle condizioni lì, diciamo, riesce a battere un pugile, come dire, iper scultorio, muscolare, iper palestrato, insomma, bisogna dire che sicuramente se si rimettesse in forma farebbe ancora molto meglio, quindi meglio rimettersi in forma comunque. La vendetta degli obesi dovrebbe comunque insegnare agli obesi a dimagrire, anche perché, appunto, male comunque fa male, meglio essere in forma, controllare il cibo e per se stessi e per la collettività è molto meglio, insomma. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sul canale Instagram, sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!